Più che una dichiarazione di voto, il mio è un ringraziamento finale a tutti coloro che mi hanno resa possibile la partecipazione oggi, a così breve tempo, e quindi voglio ringraziare gli uffici, i funzionari, tutti coloro che si sono attivati, compreso il presidente De Vito, e poi vorrevo anche sottolineare la presenza dei dipendenti negli uffici che consentono il funzionamento della macchina amministrativa, nonostante la grave emergenza che stiamo vivendo adesso, l'emergenza che ho toccato con mano e soprattutto supporto che ho visto molto, diciamo, ieri, nella giornata di ieri, di oggi. Ecco, quindi ci tenevo a fare questo piccolo... Va bene, considero Fumo Calde. Grazie.